Ciao a tutti, siamo nel parco delle terme di Acireale, stabilimento sorto nella metà dell'Ottocento, chiuso e abbandonato da anni assieme allo stabilimento termale. Abbiamo oggi riaperto questo spazio verde anche col contributo della regione che è proprietaria dell'impianto e il prossimo appuntamento sarà l'apertura delle terme non appena avremo trovato il soggetto gestore. Stessa cosa abbiamo fatto con il parco delle terme di Sciacca che abbiamo da qualche anno affidato al Comune. Da oggi i cittadini potranno riappropriarsi di questo straordinario spazio verde, a volte bastano piccole cose, piccoli segnali per restituire il diritto alla speranza a chi l'ha persa.